Sono in aumento anche nella nostra provincia gli imprenditori interessati al mercato ucraino. Oltre una ventina questa mattina si sono ritrovati a Vicenza per comprendere le opportunità offerte dall'ex territorio sovietico e comprendere le modalità migliori per operare in quell'area. Le imprese vicentine sono molto presenti sul territorio ucraino e oggi hanno sofferto l'anno scorso per la crisi che ha sommerso l'Ucraina. Oggi stiamo presentando cosa si può fare e in che maniera si può fare. È cambiato il mondo, è cambiata l'Ucraina, oggi ci sono grandissime possibilità di integrazione col mondo europeo. Noi stiamo presentando la nuova linea aerea, stiamo presentando i nuovi fondi europei che l'Ucraina beneficia e una struttura che abbiamo creato, Open Gate Italy, proprio per mettere in contatto aziende ucraine e aziende italiane. A guardare con particolare attenzione lo sbocco ucraino sono le aziende bassanesi del mobile. In passato avevamo solamente vendita di mobili italiani, veneti, verso l'Ucraina, oggi abbiamo anche coproduzioni. Quindi abbiamo alcune aziende che stanno strutturando lì copartecipazioni con aziende locali per produrre assieme dei mobili. Un tempo rivolto ai paesi più vicini, dunque la delocalizzazione sembra guardare ora proprio all'Ucraina. Sta avvenendo lo stesso processo che è avvenuto in Romania qualche anno fa, sta avvenendo in Ucraina. Quindi noi cerchiamo di supportare questo proprio perché ci sia sempre più unione per sviluppare il mercato locale. Si parla quindi di agevolazioni dal punto di vista del costo del lavoro o dal punto di vista fiscale? Assolutamente sì. La differenza è che l'Ucraina è un grande paese assorbitore di prodotto, quindi grande interesse per ridistribuire il prodotto sul territorio nazionale e sul territorio dell'est.